Ciao ragazzi, vi chiedo scusa ma è da dieci minuti che provo, l'ho detto anche a Imma, a sistemare il mio pc per fare una diretta perché avevo organizzato per voi qualcosa di molto carino e non prevedevo di farlo attraverso un cellulare. Comunque, perfetto. Spero mi sentate bene, spero che la mia voce sia chiara. Allora, io oggi voglio parlarvi di meditazione, ma molto velocemente perché sicuramente non vorrò rubarvi più dieci minuti, ma poi, vediamo se riesco anche col cellulare, vorrei farvi sperimentare il suono. Perché ieri parlando con Stefania Gorla mi sono accorto che al di là del testo e del contenuto di una meditazione intesa proprio come meditazione guidata, è molto importante il gioco di intonazione, pause e soprattutto la capacità che il facilitatore deve avere per entrare in risonanza col gruppo che medita. E questo si può fare anche online, è ovvio che richiede un maggiore sforzo da parte del facilitatore che deve veramente espandere la propria qualità di campo per cercare al meglio di raccogliere indizi sottili che gli permettono appunto di verificare la qualità di quello che sto facendo. Io voglio iniziare oggi la mia lezione con questa riflessione di Raj Desh rispetto alla meditazione. La meditazione ti può dare intuizioni straordinarie. Entri nel silenzio, procedi coscientemente, acquisti consapevolezza del sentiero, come spostarsi dal mondo esteriore delle cose utili all'inutilità del mondo interiore. E all'improvviso tutto diventa silente, e all'improvviso tutto è calmo, e all'improvviso ti trovi alla sorgente della vita. La meditazione è come una morte, la morte dell'ego. Allora, già da questo testo di Raj Nesh, noi possiamo trovare tutta una serie di indicazioni. Innanzitutto ci dice che la meditazione può darci delle intuizioni straordinarie. E certo, ma per quale motivo noi abbiamo delle intuizioni straordinarie? Perché entriamo in uno stato di coscienza altro. In qualche modo, acquietando la mente, noi ci spostiamo di livello. Infatti ci dice, entri nel silenzio. Tutte le meditazioni che adesso vi proporrò, di cui veramente vi dirò due sciocchezze ciascuno, perché sono argomenti che potete tranquillamente saturare, leggendo libri, cercandoli su internet, io vi do qualche spunto, si parlano tutte del silenzio. Il silenzio è un aspetto fondamentale. Perché? Perché per fare meditazione ci vuole sia un silenzio interiore che un silenzio esteriore. Diciamo che potremmo anche fare meditazione in discoteca, però dobbiamo avere un livello veramente di coscienza e di controllo emozionale e mentale altissimo, perché altrimenti il rumore assordante della musica e soprattutto la presenza di tante persone potrebbero condizionare in qualche modo la nostra capacità di prestare l'attenzione al presente. E a quel punto procedi coscientemente, sì, perché la meditazione è un atto di coscienza, è un atto di consapevolezza, è un atto, come dicevo prima, di profonda attenzione al qui e ora. Infatti, Imma sarà molto d'accordo con me, meditare non significa semplicemente portare avanti e praticare delle specifiche pratiche, ma anche portare se stessi in quello che si fa, focalizzarsi su un'attività. Può essere la cucina, può essere il momento del lavaggio del pavimento, può essere il momento del canto, cioè io adoro cantare, e quando canto entro in uno stato meditativo, anche perché, per esempio, sto studiando come tenore lirico, ed effettivamente per cantare tu devi tenere in considerazione almeno 5, 6 o 7 diversi aspetti. E da una parte hai l'appoggio, e da una parte hai il sostegno, e dalla parte hai la gola che deve essere aperta, e dalla parte devi pensare che i suoni devono essere prodotti in alto, e da una parte devi farli risuonare nella testa, e devi trovare i risuonatori nella faccia, nel collo, eccetera, e da una parte devi veramente entrare in contatto col diaframma coscientemente, che come un pistone tiene e sostiene tutto il fiato, e anche lì la lingua deve essere bassa, cioè vi dico, è veramente un lavoro enorme, soprattutto agli inizi, quando non ci sono automatismi, è veramente difficile. Ma in quel momento io mi sento, mi sento assolutamente di star meditando, perché sono focalizzato su quel tipo di attività. E quindi a questo punto, nel momento in cui noi meditiamo, siamo più coscienti del nostro sentiero. Sì, perché acquetando la mente, iniziamo ad avvolgere la nostra attenzione verso l'interno. Il percorso, veramente, l'obiettivo di un percorso spirituale, non è collezionare certificati, ma è cercare in tutti i modi di entrare in contatto con la propria saggezza, con la propria consapevolezza. Il percorso è proprio dall'esterno all'interno. Invece spesso noi ci facciamo condizionare profondamente, anche dal senso di inadeguatezza che viviamo, pensando di aver bisogno degli altri. Mentre è ovvio che bisogna sempre iniziare, e quindi per iniziare non bastano i libri, secondo me. Per iniziare servono dei riferimenti, però a un certo punto questi riferimenti devono avere l'obiettivo di far crescere in modo autonomo le persone che le appellano. Mentre spesso, ahimè, mi accorgo che invece c'è una volontà da parte degli operatori delle helping profession a creare forme di dipendenza. Dipendenza per denaro, dipendenza per notorietà, dipendenza per tono che le persone si danno nell'avere un ruolo e nell'avere spesso un gruppo di persone che in qualche modo pendono dalle loro labbra. Però questo è assolutamente aspirituale. Non è per nulla spirituale, perché un facilitatore che ha consapevolezza dovrebbe porsi come obiettivo quello di diffondere quello che sa e soprattutto generare processi di benessere, di trasformazione nei confronti delle persone che a lui si rivolgono. Riflettete anche su questo spazio. E soprattutto una persona che si converte o decide di essere o si vende per un operatore, un facilitatore, deve camminare con coerenza sulle proprie parole. Questo è l'aspetto fondamentale prima della conoscenza. E chi mi conosce sa che io sono un grande pistino rispetto al considerare la conoscenza, i riferimenti teorici, i riferimenti bibliografici che per me sono fondamentali e che rappresentano per me un'ancora alla quale mi ispiro costantemente. Però è pur vero che prima di quel tipo di conoscenza c'è la conoscenza di sé che fa la differenza. Quindi durante la meditazione a un certo punto il sentiero è più chiaro. Quindi questo sentiero, questa esplorazione di se stessi, questo percepire che dobbiamo entrare in contatto e in risonanza con il nostro sé più profondo. Noi dobbiamo entrare pienamente in contatto con la nostra anima, con la nostra nota, con il nostro suono, con la nostra qualità. E chiaramente per farlo dobbiamo mettere a tacere la mente. Dobbiamo permetterci di trovare uno spazio costante per ascoltarci. L'ascolto e l'introspezione diventano fondamentali per generare una trasformazione in noi. Nel libro Dialoghi con Lomar Conte Basileus in questo è molto chiaro. Basileus sostiene che noi siamo in un momento di grande crisi, parla di decadenza, dove l'uomo ha perso di vista la centralità del suo essere e della sua missione e per ricominciare gli si chiede di fare un lavoro introspettivo. Una volta che conosce se stesso vedrà quali sono i contributi che può dare a questo piano e poi a quel punto sviluppare delle collaborazioni. Mentre quello che vedo oggi invece è un antagonismo malato, un'eccessiva centralità sulla propria personalità da parte anche di grandi operatori, di grandi colleghi, che forse non se ne rendono conto, ma se avessero voluto fare le star, probabilmente un percorso di servizio non sempre è così in risonanza. chiedo scusa e non sto assolutamente giudicando nessuno. Ahimè da sociologo vedo che dei fenomeni si ripetono, vedo che c'è proprio questa necessità di avere il microfono sempre in mano, di poter fingersi tuttologi per poter creare attorno alla propria persona una certa aura di adepti, di discepoli. Però vi dico anche questo. Un maestro, che non è un facilitatore, ma un maestro viene scelto e viene dichiarato tale dai suoi discepoli, ma non li sceglie lui. Sono i discepoli che piano piano avvicinandosi trovano una speciale risonanza con lui e iniziano a pensare che lui sia un facilitatore che permette loro di chiarire le loro ombre, schiarire le loro ombre. Questo è un aspetto molto importante a cui chiedo veramente di riflettere a tutti. E a un certo punto, quindi durante la meditazione, come dicevamo prima, tutto diventa calmo, la mente ti acqueta e ti trovi alla sorgente della vita. Sì, e qual è la sorgente della vita? Ti trovi, ti trovi alla fonte. La fonte da cui tutto ha origine. Ed è meraviglioso. Cioè tu entri in contatto pienamente con l'origine di tutto. Non parlo del paradiso. Io parlo proprio della dimensione più alta dell'esistenza. Io parlo di un Dio, di un'entità di luce da cui tutti siamo generati. E a quel punto noi siamo nella verità. E perciò si parla di seconda morte. Di una morte, sì, è la morte dell'ego. Ma se noi siamo concentrati e focalizzati su questo aspetto, è ovvio che non potremo mai ascoltare tutto quello che ci arriva dall'alto. Per contattare i piani sottili, e quindi la meditazione evidentemente ci espande questi canali, noi dobbiamo mortificare una parte di noi. Pensando all'impiccato, pensando alla carta di talocchi, mi viene in mente l'impiccato che sacrifica se stesso. E in questo caso è il sacrificio dell'ego. che poi significa semplicemente metterlo da parte. Significa semplicemente permettere a ciascuno di noi di esprimere il proprio sé autentico. Ora vi svelo un grande un grande un grande una grande verità. Nel lungo periodo non nel breve nel lungo hanno la meglio le persone autentiche. L'essere autentico sviluppa una forza e un'aura e un aspetto carismatico attrattivo che non ha precedenti. è ovvio che nel breve periodo a volte questo non si riesce a percepire. Nel breve periodo a volte la gente viene incantata da effetti speciali. Ma anche lì e anche sulla medianità dico la stessa cosa. Guardiamo il silenzio. Guardiamo veramente ogni singola coerenza di quello che un operatore è un medium esprime da quello che fa. Notiamo come si affida perché una persona è voluta si affida a fiducia nell'esistenza perché l'esistenza ti mette di fronte tutto quello che veramente ti serve. A fiducia nella vita oltre la vita. Considera questa quella che viviamo adesso una bellissima a volte altre un po' meno rappresentazione teatrale dove noi recitiamo dei ruoli ma questo è falso. Platone diceva che la realtà è copia della copia e quindi immaginate ed è proprio così questo è una palestra quello che noi viviamo è una palestra è una palestra che noi abbiamo scelto probabilmente di fare di percorrere per rendere più luminosa e più leggera la nostra anima e questo diventa veramente l'obiettivo di ciascuno e la meditazione è uno di tanti percorsi e vi prego all'inizio per qualsiasi cosa voi iniziate cercate sempre dei riferimenti perché il libro non è sufficiente riferimenti per iniziare per esempio oggi va di moda la mindfulness per esempio è un bellissimo percorso che tengono operatori olistici psicologi medici però vi prego al di là della tecnica guardate il cuore guardate il cuore guardate gli occhi di chi vi propone delle cose guardate ascoltate il timbo di voce ascoltate dove vi risuona come chi mi conosce sa che ho fatto centinaia di percorsi fino adesso corsi voglio dire centinaia di corsi perché poi il percorso è uno centinaia di corsi e tutti mi hanno lasciato qualcosa a volte anche mi hanno insegnato quello che non volevo essere mi hanno insegnato a a scegliere meglio una strada piuttosto che un'altra quindi tutti mi hanno lasciato qualcosa e dei corsi che ho fatto mi hanno anche messo davanti la pochezza dell'interlocutore che non aveva capace di interagire con me e dato che aveva il coltello da parte del manico cosa ha fatto? Ha cercato di annientarmi perché ci sono ragazzi facilitatori insegnanti di tecniche diverse che non hanno grandi capacità e quindi quando trovano un allievo che porta delle conoscenze perché ha un percorso alle spalle o se non sono illuminati lo mettono alle strette perché per esempio nella tecnica dello shatsu accanto alla capacità percettiva c'è anche la parte squisitamente tecnica nell'arte dello shatsu quindi il pollice come la pressione la perpendicolarità e tanti altri concetti è una persona che comunque pratica quello strumento da vent'anni se vuole ingabbiarti e se vuole metterti in difficoltà o vuole veramente generare in te un problema può farlo tranquillamente e quindi anche in quell'esperienza io ho ringraziato profondamente questa persona queste persone tanto che ho scelto poi l'anno dopo di chiedere un tutorial a questa persona un anno e mezzo dopo un tutorial sulla gravidanza perché lei lavorava con lo shatsu di gravidanza un'ora e mezza di tutorial personale quindi una lezione per me e lei mi chiese di fare uno shatsu interno e io immediatamente feci uno shatsu interno e lei rimase stupita completamente scioccata perché io ero andato molto avanti perché le mie qualità erano rispetto per la percezione al tocco di gran lunga più elevate delle sue peccato che lei vedendomi come un antagonista e non soltanto un allievo curioso che voleva capire voleva mettersi in gioco mi ha visto come un nemico da annientare e io quindi ho subito questo tipo di violenza che mi ha insegnato mi ha insegnato molto e mi ha attemprato anche in termini di carattere perché io non ho mollato lo shatsu l'ho continuato e come se l'ho continuato l'ho finito e ancora sto approfondendo grazie a Patrizia Stefanini che io devo citare sempre perché è al momento secondo me la più grande shatsu che abbiamo in Italia la più grande insegnante che abbiamo in Italia perché perché avendo delle competenze di fisica lei ha un dottorato in fisica medica è riuscita a coniare la do shatsu che è una rilettura quantistica dello shatsu quindi è lei che riesce a decifrare le basi i presupposti di duemila anni fa della medicina tradizionale cinese applicati poi allo shatsu e trasformarli in un'ottica appunto della nuova scienza delle bio dei bio fotoni della della biologia quantistica della biologia dell'anime e via dicendo quindi questo per dirvi che tutto serve nella vita tutto serve e la meditazione è un percorso uno strumento che acquetando la mente tranquillizzandola ci permette di scendere maggiormente in profondità oltretutto voi sapete e non non continuo di molto che gli effetti della meditazione sono evidenti anche in termini fisiologici l'abbassamento della pressione arteriosa agisce sul metabolismo sulla capacità di concentrarsi la capacità di memorizzare di focalizzarsi e quindi anche di apprendere tanto che per esempio corsi di lettura veloce o corsi di mappe concettuali quindi che in qualche modo sottendono un miglioramento della propria performance ricorrono alla meditazione per esempio una meditazione che io poi farò tra qualche tempo da voi è una meditazione dei colori che io imparai appresi in uno di questi corsi che avevo fatto il primo anno di università allora vi dico due cosine e poi basta poi facciamo l'esercizio sulla meditazione la meditazione si divide in ricettiva e riflessiva ricettiva è quella è quella meditazione che punta all'annullamento dei pensieri proprio come ci insegna lo yoga quindi ci insegna a staccare la mente ci insegna a lavorare sul mentale a lavorare sulla consapevolezza mentre quella è riflessiva invece è riflessiva perché si concentra e si focalizza su un oggetto e quindi la presenza di un oggetto reale o simbolico diventa il centro della meditazione chiaramente è come se ci fosse un pensiero seme che poi viene osservato e scomposto rigorosamente in ogni suo aspetto tale da permettere poi di raggiungere la piena e profonda comprensione dello stesso entrambi questi sono i due grandi i due grandi tipi di meditazione poi ce ne sono diversi io ne ho trovati ben otto la meditazione zen che è quella che proprio conosciamo tutti che si fa seduti in posizione del loto l'attenzione al respiro eventualmente anche la visualizzazione e quindi l'obiettivo è focalizzarsi nel qui e ora nel presente la meditazione trascendentale che è una meditazione che che punta appunto attraverso l'utilizzo di mantra del proprio mantra a innalzare la propria vibrazione e contattare la parte più essenziale di noi è ovvio che anche lì bisogna trovare il proprio mantra perché i mantra ragazzi considerate che sono quelli vedici possiamo dire che ogni sloca cioè ogni verso ogni insieme di versi di uno scritto shastrico vedico può essere tranquillamente considerato un mantra quindi i mantra sono migliaia bisogna poi entrare in risonanza con quello proprio oppure avere la fortuna di incontrare un maestro che te lo insegna la meditazione di vipassana è una meditazione di controllo del corpo dove tu osservi ogni singola parte del corpo dai piedi alla testa e rimani in silenzio portando focalizzandoti su ogni parte del corpo la mindfulness non è altro che un'evoluzione occidentale della vipassana che ha come obiettivo fondamentale sia la liberazione del corpo sia l'annullamento del dolore in una sorta di consapevolezza e di accettazione totale l'oponopono è una forma di meditazione hawaiana basata appunto sulla ripetizione di un mantra che veramente permette di entrare in armonia profonda con la propria anima poi abbiamo la meditazione camminata quindi la camminata consapevole ovvero portare l'attenzione a ogni singolo movimento che viene sviluppato nella camminata quindi come poggia il piede come si alza il gioco della caviglia eccetera e questo ci aiuta a disciplinare il nostro comportamento e avere un monitoraggio profondo del nostro corpo la meditazione kundalini è una meditazione complessa fa parte la troviamo anche tra le pratiche osciane ed è una meditazione che va a risvegliare l'energia primordiale che è appunto quella della kundalini attraverso dei movimenti attraverso delle delle della una concentrazione sui vari punti energetici e questo porta che cosa porta a migliorare la consapevolezza che ciascuno guarda di se stesso e quindi migliorarne la piena consapevolezza del nostro essere e poi c'è quella dinamica che è molto vicina anche alla free dance in qualche modo perché si chiede alla persona di muoversi liberamente e dare libero sfogo al nostro corpo attraverso delle musiche speciali quindi voi vi accorgete come ci sono tante tante forme di meditazione voi sapete che mi piace molto la meditazione guida che punta alla consapevolezza in cui svolge un ruolo molto attivo il facilitatore che appunto attraverso la creazione di un testo segue in modo importante tutte le persone che che vanno da lui in qualche modo sia individuali che in gruppo e poi li accompagna in un percorso che normalmente ha a che fare con il riconoscimento di qualche parte di sé con la liberazione di qualche blocco con l'energitazione eccetera oggi voglio proporvi in questi ultimi dieci minuti una pratica allora voi sapete che il nostro corpo a parte ha una struttura fisiologica e anche se vogliamo ha una struttura energetica e possiamo considerare tantissimi riferimenti io penso alla medicina tradizionale cinese io penso al sistema ayurvedico quindi chakra penso quello tibetano cioè quindi tantissime sono state le letture addirittura quello peruviano che ha a che fare appunto con tutta la tradizione sciamanica cioè ciascuno ha portato una lettura particolare del corpo io adesso voglio parlarvi di come lavoro a volte sui chakra che è un lavoro molto carino allora voi sapete che ogni chakra ha una vibrazione una frequenza e normalmente si leggono ai chakra le sette note diciamo che comunemente è quello che io vi farò vedere anche se ci sono letture diverse rispetto a questo fenomeno ogni nota corrisponde a un chakra se noi sappiamo che le note sono sette i chakra sono sette fondamentali chiaramente parliamo di sette fondamentali noi possiamo associare il do al primo il re al secondo e possiamo pensare di fare un lavoro come questo guardatemi perfetto un attimo questo è il do quindi io mi capita abbastanza spesso di utilizzare la tastiera e iniziare a chiedere al mio assistito al mio cliente di iniziare ad armonizzarsi focalizzandosi su delle parti del corpo quindi io chiedo di focalizzarsi sul primo chakra quindi chiedo questo a voi focalizzatevi sul primo chakra chiudete gli occhi un attimo trovate una posizione comoda ok inspirate e espirate in questo chakra e poi iniziate a emettere una perfetta o intonatela al do inspirate ancora ancora ispirate concentrate e focalizzatevi sulla parete perineale primo chakra ed emettete un suono grave che vada a risuonare in quel punto e ascoltate rimanete in ascolto della vibrazione adesso lasciate questa parte e focalizzatevi invece all'altezza del pube dove idealmente risiede il secondo chakra parliamo sempre di corpi sottili quindi non parliamo di espressioni fisiologiche chiaramente o di tessuti parliamo di corpi sottili e quindi ci alziamo di tono focalizzate questo suono concentratevi intonatelo e portate l'attenzione proprio al pube di corpi sottili e potete tenerlo chiaramente quanto volete adesso noi stiamo facendo una sperimentazione andiamo al E e quindi ci concentriamo adesso sul il terzo chakra tre dita sopra l'ombelico intonatelo e ripetetelo concentratevi portate l'attenzione al terzo chakra e concentratevi adesso saliamo su saliamo sullo sterno sterno adesso saliamo su gola oh 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 saliamo su ancora terzo occhio tra le sopracciglia om, 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 om sommità del capo om, 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 om e ascoltiamo tutto il corpo prendiamoci questo spazio per ascoltarci per ascoltare il nostro corpo prendiamoci questo spazio per ascoltarlo e vediamo quello che abbiamo generato nel corpo benissimo e poi possiamo eventualmente fare un lavoro più veloce una volta che l'abbiamo sintonizzati possiamo pensare di cambiare l'osservazione a ogni tasto più velocemente dal primo chakra al settimo provate pensiamo all'ottava anche perché così si espande il movimento a ogni emissione focalizziamoci velocemente su un chakra è come se facessimo una camminata in su e in giù di nuovo e questo era un po' quello che volevo dirvi oggi cioè quindi non vi ho parlato dell'importanza del suono però potete immaginare che il suono svolga veramente un ruolo fondamentale pensiamo a tutti i mantra che ci sono pensiamo al mantra OM che è uno dei più conosciuti e di come risuonano sul nostro corpo perché essendo vibrazioni permettono al nostro corpo di essere nutriti da quel tipo di risonanza e oggi quindi abbiamo parlato riassumo della meditazione di cosa significa di dove ci porta del perché è importante del fatto che può essere un percorso come anche altre discipline per dirvi il reiki che io pratico e insegno io l'ho trovata una pratica assolutamente meditativa perché attraverso l'imposizione delle mani ti obbliga a focalizzarti su delle parti del corpo e focalizzarti sul presente perché poi lì appunto l'obiettivo fondamentale abbiamo detto che è appunto questo acquitare la mente focalizzarsi nel presente abbiamo parlato dei tipi di meditazione degli otto diversi dei due grandi tipi che appunto abbiamo definito riflessiva e ricettiva e poi otto che sono quelli più diffusi tipi di meditazione e poi abbiamo fatto un lavoro sul suono associando a ogni chakra una nota musicale dal DO al SI il DO è il primo chakra il RE è il secondo e poi abbiamo fatto una passeggiata ascendente una passeggiata discendente io spero di essere stato nutriente per voi vi chiedo scusa per il limite tecnologico e anche per il ritardo che non è dovuto a me sono stato dieci minuti ma non partiva dal pc la diretta io spero veramente che vi siate divertiti e spero che questo lavoro l'abbiate trovato interessante per chi dovesse avere domande o approfondimenti o sperimentare delle pratiche con me il mio numero è 366-3953014 oppure tranquillamente potete scrivermi sul messager in privato o chiedere a Im io sto in bioenergetica anche a distanza ottenendo dei risultati importanti a questo punto vi abbraccio vi auguro un buon sabato e una buona domenica perché qualcuno l'altra volta mi ha sgridato quando ha detto buona domenica per me il sabato era quasi finito quindi mi guardavo e guardavo verso la domenica veramente vi abbraccio con tutto il cuore ringrazio Imma per questo spazio la settimana prossima mi piacerebbe fare con voi a questo punto una meditazione guidata quindi per chi fosse interessato a seguire una mia meditazione una mia meditazione alle 3 e un quarto più o meno sabato prossimo un grande abbraccio una buona vita a tutti una buona settimana e divertitevi e giocate soprattutto vi abbraccio ciao ciao